Grazie Presidente, Signor Sindaco, Signori Consigliere, ho chiesto di benvenire nella parola del Chiaro Judiciale, perché mia intenzione informare l'Assemblea dei Convenuti, che stamane il Dottor Grigno, insieme a Ferdinando Roitra del Stato, ha partecipato con messi propri al dolore del Dottor Carlo Fioriano, e poi in Milano ci rappresentano l'altra città di Casconi, e lo portano in questa Assemblea a me, un minuto di capolire. Grazie. Grazie a tutti ieri, grazie a tutti ieri, insieme a tutti ieri, insieme a tutti ieri, insieme a tutti i sindi, e reg biblici, insieme a tutti e di pubblico, insieme a tutti i compagnie il Dottor Grigno, come va a dare alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.